Il direttore degli uffizi, Aike Schmidt, sta pensando seriamente di candidarsi a sindaco di Firenze per il centro-destra. Non so se abbia già cominciato ad avvicinarsi alla campagna elettorale. Se fosse così, il suo primo passo sarebbe un brutto scivolone a fatto aprire le porte degli uffizi a un ex NAR. Così il deputato e segretario del PD, Emiliano Fossi, sulla partecipazione di Egidio Giuliani, ex componente dei NAR, come relatore per i dialoghi di arte e cultura promossi dalla Galleria degli Uffizi. I NAR, Nucli Armati Rivoluzionari, sono stati un'organizzazione terroristica italiana di estrema destra. Avrebbe dovuto tenere una lezione il 27 settembre su Caravaggio, la legge e l'onore, secondo quanto scritto nel programma diffuso martedì scorso. Giuliani, condannato a 16 anni per l'omicidio nel 2014 a Roma di Silvio Fanella, attualmente è detenuto a Prato, dove ha approfondito la sua conoscenza su Caravaggio, dedicandogli due anni fa la sua tesi di laurea. Da qui sarebbe poi nato l'invito a parlare agli uffizi, a farlo Fulvio Cervini, docente di storia dell'arte medievale che è nel CDA degli Uffizi. Ma all'occhè del carcere di Prato, per autorizzare Giuliani, non è però seguito quello di Roma. Dalle gallerie fanno sapere che alcuni giorni fa il museo ha deciso autonomamente di sospendere il progetto. Sulla vicenda interviene anche l'assessora all'educazione e migrazione di Palazzo Vecchio, Sara Funaro, che dice, trova inaccettabile che un'istituzione come le gallerie degli uffizi invitino un personaggio con una storia personale come la sua.